Io non scelgo mai nella mia vita, eppure la mia vita è piena di significato e mi sento molto realizzata. Perché questo? Ma intanto ti voglio parlare di alcune persone, io ho tante persone che incontro, hanno dei problemi, hanno paura di scegliere, hanno paura di vivere la loro vita, scelgono solo ciò che è sicuro, ciò che non gli fa sentire sbagliati. Questo si chiama evitare la vita, e poi vivono una vita che sentono magari piatta, vuota, senza significato. Ti voglio raccontare un evento, un qualcosa che mi è accaduto alcuni anni fa, nel 2015 mi sembra. Mi trovavo a Mont-Saint-Michel, Mont-Saint-Michel in Francia, in Bretagna. Perché ero lì? Beh, ero partita in un viaggio avventura, ero partita da sola, in macchina, un viaggio che doveva essere di più di 7000 km, infatti così è stato. E avevo delle tappe precise, praticamente sono partita da Torino in macchina, ho attraversato tutta la Francia, avevo alcune tappe in Bretagna, tra cui Saint-Michel, Carnac, poi mi dovevo reccare in Normandia, fare tutta la Normandia, arrivare fino a Calais, per poi prendere il traghetto, andare a Stonehenge e poi dirigermi in Scozia, fino almeno all'isola di Skye. Insomma, delle tappe molto molto chiare. Questo viaggio è stato guidato dalla mia anima, e la mia anima e le mie guide. E mi è stato comunicato che avrei dovuto essere, proprio il giorno del mio compleanno, a Mont-Saint-Michel. Io ero uno dei viaggi dei miei sogni, ho realizzato due sogni, tra l'altro, in questo viaggio, perché mi sono recata sia a Mont-Saint-Michel che a Stonehenge. Sognavo di andare a Stonehenge da quando ero bambina, forse avevo visto la prima volta un servizio su Stonehenge, facevo forse le elementari. E quindi ho realizzato due sogni. Ma torniamo a Saint-Michel. Mi trovavo a Saint-Michel, e forse lo sai che a Saint-Michel, e in realtà in tutta la zona della Bretagna, Normandia, c'è un'escursione veramente notevole della marea. Quindi la marea si alza e si abbassa di parecchi metri, ed è visibile ad occhio nudo, è una cosa bellissima. Volevo andare a fare una passeggiata sulla spiaggia. Non è propriamente una spiaggia, perché è tutto il fondo del mare che emerge quando la marea si ritira. Ed è un qualcosa che normalmente, anzi, che le guide sconsigliano di fare da soli, perché lo puoi immaginare. Perché comunque, se no, fai un po' di attenzione, rischi di trovarti in mezzo al mare, magari a chilometri dalla riva, e di trovarti in serie difficoltà. Per cui loro accompagnano, diciamo, i turisti a fare delle passeggiate. Io non avevo assolutamente voglia di andare in compagnia, perché? Perché era un viaggio mistico, avevo le mie cose a fare, le mie meditazioni. Era totalmente guidato questo viaggio, e quindi avevo i miei tempi. Insomma, mi sono messa lì a guardare la marea che saliva, scendeva, eccetera. Ho fatto i miei calcoli, e a un certo punto mi sono trovata lì, lì, per cominciare a camminare su queste terre emerse. Il problema è che quando emerge il fondo del mare, è una poltiglia. Avevo le scarpe da ginnastica, quei calzini, ti sembrerà una sciocchezza, ma non avevo proprio voglia di immergere i miei piedi in questa poltiglia, e poi trovarmi le scarpe piene di fango, eccetera. Anche perché comunque ero in un viaggio avventura, non è che avessi tutti questi cambi. Avevo un solo paio di scarpe da ginnastica. A un certo punto mi è stato detto questo, devi spettinarti, devi lasciare andare, devi immergere i tuoi piedi e le tue mani nel fango, nella vita. Ti devi sporcare le mani e i piedi. Io cercavo di controllare in quel momento, stavo cercando di controllare un viaggio che doveva essere totalmente fuori dal controllo. E quindi ho ricevuto questa bella lezione, questa bella informazione. E quindi che cosa ho fatto? Beh, ho ascoltato ovviamente, mi sono tolta le scarpe, e ho iniziato questa lunga lunga camminata su queste terre emerse. Ed è stata veramente una bellissima esperienza. Una bellissima esperienza tu dirai, sì, vabbè, è una cosa semplice. Sì e no, perché comunque alla fine è stato qualcosa di veramente metaforico e trasformativo. Perché questo? Perché comunque ho lasciato andare completamente il controllo, mi sono affidata, ho fatto una cosa che poteva essere anche ritenuta pericolosa, perché mi sembra addirittura che sia vietato avventurarsi a fare questo tipo di esperienza in solitaria. E quindi mi sono abbandonata, mi sono permessa di fare questa esperienza pienamente, ed è stata un'esperienza proprio, proprio bellissima. Tu pensa, se non avessi fatto questa esperienza, beh, mi sarebbe forse mancato un pezzo. Certo, non puoi tornare indietro e dire, se avessi fatto così sarebbe accaduto questo, se non l'avessi fatto sarebbe accaduto quest'altra cosa. Però tutte le volte che scegli di controllare, scegli di non fare delle esperienze, scegli di non farti spettinare dalla vita, scegli tu, al posto che farti aiutare dalla tua parte più saggia che è la tua anima, beh, ti perdi delle grandi, grandi occasioni di vivere pienamente. Io ho, è tanto tempo che ho scelto di vivere seguendo la mia anima e le mie guide, ed è qualcosa di veramente molto, molto bello. Perché? Ma perché questo ti porta ad andare oltre quelle che sono le tendenze della mente, che ti portano a controllare, il tuo ego ti fa vivere secondo la sicurezza, la paura, l'illusione della sicurezza, perché noi tieni conto che non possiamo sentirci al sicuro nella vita, non possiamo essere al sicuro. Quel sicuro che noi percepiamo è ciò che conosciamo, ma è ciò che, come ti ho già detto prima, vivono molte persone che vivono una vita piatta, vuota, senza significato, è così che tu vuoi vivere? Beh, io ho scelto di non vivere così. E questo, devo dirti che è veramente qualcosa che mi ha portato, rispetto a tante persone che conosco, a vivere in un modo completamente diverso. Certo, può sembrare una vita strana la mia, sì, sicuramente sì, perché è fuori dagli schemi, è una vita in continua trasformazione, è una vita che mi ha portato a cambiare nazione due volte e forse probabilmente presto mi porterà da un'altra parte. È una vita che mi ha portato a fare dei viaggi guidati proprio dalle mie guide e dalla mia anima. È una vita che mi ha portato a seguire la mia missione. Ho creato tante cose seguendo la mia anima e permettendomi di buttarmi a pieno con fede più che con fiducia in quello che mi proponeva. Ho scritto un libro, ho creato dei percorsi seguendo la mia anima, ho creato tante cose che hanno aiutato le persone. Anche il percorso vita straordinaria con cui sto aiutando proprio le persone a fare i passaggi necessari per arrivare a vivere la vita straordinaria secondo quello che loro sentono dentro. È stato completamente guidato dalle mie guide, non l'ho inventato io, assolutamente no. E quando è così, stai tranquillo che le cose funzionano sempre, funzionano in modi che noi non riusciamo neanche ad immaginare. La mia anima mi ha portato veramente a fare delle grandi, grandi, grandi scoperte. Mi ha portato a scoprire me stessa, la vita. Mi ha portato ad incontrare delle anime meravigliose. E questo mi ha portato proprio a vivere in modo più sereno, più rilassato rispetto a tantissime persone. E' rilassato nel senso di avere fede. Avere fede che tutto quello che tu stai facendo è la cosa migliore per te. E' talmente vero e profondo questo, che anche quando sembra che stiano succedendo delle cose non propriamente armoniche, dentro di te, anche se c'è una parte che magari sente di avere paura, senti che stai facendo la cosa giusta, la cosa migliore, la cosa, l'unica cosa, perché in realtà non scegli più. Questa è una cosa incredibile, perché tu in realtà non sei più messo di fronte a delle scelte. Non puoi più scegliere nella vita. Perché quando è la tua anima a guidarti, quando tu stai facendo il percorso che la tua anima ti indica, e la tua anima, ricordati, che non è un'entità astratta, separata da te, quindi c'è qualcun altro che sceglie per te, ma sei tu, la tua parte più intelligente, più saggia, che sa veramente che cosa è bene per te, che non agisce secondo la paura, non agisce secondo il proprio comodo, secondo ciò che la fa sentire al sicuro, e che quindi non la porta a vivere. La tua anima non ti porta a scegliere, ti porta verso l'unica cosa che puoi scegliere, ossia che cos'è? La cosa migliore per te. E la cosa migliore in genere è una. Ad ogni bivio della vita, che noi pensiamo sempre di avere due soluzioni, due possibilità, anche quella è una schiavitù, perché in realtà le possibilità sono sempre infinite, ed è bellissimo quando tu riesci a vedere più e più possibilità, ma ce n'è solo una che ti chiama, ce n'è solo una che si accende, perché tu in questo modo hai la visione veramente aperta, hai la possibilità di vedere ciò che la maggior parte delle persone non riesce neanche ad immaginare, e nel contempo sai che quella è la tua direzione. Questo ti dà una grande gioia, ti dà una grande sicurezza, e ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta. E cosa c'è di più bello e di più meraviglioso? Anche perché la tua anima dove ti porta? Ti porta verso una vita piena di significato, non ti porta a buttare via il tempo della tua esistenza, non ti porta a fare quelle scelte che sono inutili per la tua vita, per la tua evoluzione, ti porta lì dove è importante che tu sia, ti porta a fare ciò per cui tu sei venuto qui sulla Terra, e questo lo senti perché ti accende dentro. quando tu stai seguendo il percorso della tua anima, lo senti perché al mattino, quando ti svegli, senti un entusiasmo, un'energia, una voglia di fare che ti fa svegliare già con una... come posso dirti? con un fuoco dentro, un fuoco positivo, non vedi l'ora di alzarti per fare ciò che tu sei, per fare ciò che è importante per te, per fare ciò che dà significato alla tua vita. Ed è per questo che tu hai tanta energia quando stai seguendo il percorso della tua anima, perché sai che anche quel giorno lì farai ciò che è necessario per arricchire ulteriormente la tua vita di significato. Quante persone conosci che si danno questa possibilità? Questo è quello che io insegno ai miei allievi, che porto a fare i miei allievi, perché anche loro magari si sono sentiti, hanno sentito nella loro vita che erano di più di quello che si concedevano, che stavano un po' sprecando la loro vita, non sapevano cosa fare, come farlo, non sapevano come uscire da quegli schemi di vita che gli stavano stretti, da quella vita che li faceva sentire sbagliati perché non si riuscivano ad adattarsi. Ebbene, loro stanno facendo proprio questo, stanno ripulendo tutti quelli che sono i loro blocchi, le loro paure, i loro non posso, i devo, tutti quei condizionamenti inutili e deleteri per la loro vita. e stanno ritrovando una libertà nuova, perché stanno imparando ad amarsi per quello che sono. E questo dà una grande libertà, tanto che ti fa aprire la tua visione, ti fa aprire quella porta che è stata chiusa magari quando eri un bambino. E loro stanno ricominciando a sognare, stanno cominciando a vedere una vita con nuove possibilità. e si stanno anche permettendo di fluire nell'esistenza, anche perché quello che ho piacere veramente di portare alle persone è proprio la capacità di andare oltre, di alzare l'asticella dei sogni, perché le persone non sono più capaci di sognare. E invece dentro di te c'è un bambino che vuole sognare, ma vuole sognare in modo pratico, perché poi i sogni li vuole realizzare, non li vuole solo sognare. E la cosa meravigliosa è che questo diventa possibile. Perché quando lo fai nel modo giusto, quando riesci a lasciare andare quei blocchi e quei condizionamenti che non sei mai riuscito a lasciare andare, anche se hai lavorato tanto su di te, anche se ti sei messo lì, ti sei impegnato, hai cercato di raggiungere degli obiettivi che magari potevano anche essere quelli sbagliati. E quindi tutto questo non ti porta a trasformare la tua vita se non lo fai nel modo corretto. Ma quando? Lascia andare questi condizionamenti nel modo corretto. Quando apri la tua visione. E quando poi, una volta aperto questo, cominci a creare e a fare accadere le cose nella tua vita, allora le cose si trasformano. E queste sono le tre cose che insegno anche attraverso il percorso vita straordinaria. Perché questo può veramente trasformare la vita delle persone. Lo so bene perché ha trasformato la mia vita, ha trasformato la vita di tante delle persone con cui ho lavorato in questi anni. E questo è diventato alla fine questo percorso meraviglioso che sta aiutando tante persone. E anche io imparo ogni giorno facendo questo percorso. Perché questo percorso porta tanto agli altri e porta tanto a me. ebbene, se anche tu sei interessato ad ottenere questo tipo di risultati, se questi sono i risultati che anche tu vuoi nella tua vita, ebbene, sappi che abbiamo riaperto le porte per il percorso vita straordinaria. Abbiamo riaperto le porte per la selezione per il percorso vita straordinaria. ci sono solo più cinque posti per il mese di luglio. Ed è un buon mese per iniziare perché magari l'estate per te potrebbe essere un periodo più tranquillo. Se non ti occupi di turismo. Però comunque potrebbe essere un periodo più tranquillo. E ti può aiutare iniziare a lavorare adesso ad iniziare a settembre con le idee più chiare. A sentire più energia proprio. perché tu possa magari intraprendere il tuo cammino con più consapevolezza. Mettere più energia nei tuoi sogni, nei tuoi progetti. Quindi, se questi sono i risultati che ti interessa ottenere nella vita, allora puoi contattarci a info-divineconnection.one E se durante la chiamata, perché ti offriamo una chiamata di svolta gratuita, con me o con uno dei tutor, riterremo di poterti aiutare, allora ti spiegheremo come fare e come funziona il percorso. Ti mando un abbraccio di luce e ti auguro una vita straordinaria. Ciao, alla prossima!